Ciao a tutti e bentornati sul mio canale prima di tutto voglio dire grazie a tutti quanti questo canale è nato, non da zero, sotto zero quando è nato questo canale pensavo che in un mese finiva tutto invece grazie a voi, grazie al vostro sostegno questo canale è ancora attivo io spero che riusciremo da qui a pochi altri mesi ad aumentare sempre più iscritti perché più aumentiamo iscritti più faremo contenuti migliori sia come prodotto sia audio che video per questo vi raccomando iscrivetevi a sempre di più iscrivetevi allora signori mei in questi giorni prima di tutto vi dovete iscrivervi al canale aggiornate la campanella quando uscirà un nuovo contenuto vi arriverà la notifica sul vostro cellulare altra cosa importante andate sui canali social Facebook, Instagram e Twitter per essere aggiornati sul tutto soprattutto in questo periodo che abbiamo mondiale femminile le ultime tappe del Tour de France la Formula 1 il calcio vi raccomando sempre sul pezzo allora in questo momento le big italiane stanno andando a fare una tournée Milan e Juve andranno in America l'Inter andrà in Giappone Napoli girerà girerà l'Europa mi sembra pure la Roma la Roma andrà in Australia perché fanno questi questi tour queste trasferte cose lunghe durante il periodo di preparazione semplicemente per soldi perché queste trasferte queste amichevole all'estero portano soldi portano sponsor la Juve questa trasferta la occuperà anche per riuscire a trovare un nuovo sponsor perché si parla di uno sponsor americano di uno sponsor arabo sulla maglia del prossimo anno sappiamo che il Jeep Cosmanno ha annunciato che non che non sarà più lo sponsor ufficiale della Juve la Juve andrà in ricerca di un nuovo sponsor soprattutto di uno che dà parecchi soldi e anche questa amichevole i dirigenti della Juve occuperanno questa opportunità però le squadre le tre big che poi parleremo anche del Napoli che vanno in trasferta vanno a fare questa amichevole vanno con tanti dubbi la Juve ha tantissimi dubbi il Milan ha il dubbio del vice del vice come si chiama del vice Giroud ora si parla dell'attaccante del Salzburgo addirittura dicono che lo hanno in mano domani ci sono le visite mediche io non lo so vediamo però il problema è proprio questo perché Terani Tereni perché è stato messo da parte perché essendo che extra comunitarie se prendevano il giocatore del Porto occupavano l'ultimo posto per extra comunitarie e invece il Milan vuole buttare tutto su Chocomovie Chocomovie dal Villanar è un ottimo giocatore a me piace il Villanar vuole dai 35 ai 40 milioni il Milan ne offre 30 io penso che una via di mezzo la troveranno e alla fine il giocatore verrà andrà al Milan può essere un ottimo acquisto visto al Villanar è un ottimo acquisto poi come ho sempre detto un conto quando tu prendi questi giocatori un conto che giochi con il Villanar un conto che gioca a San Siro davanti a 80.000 persone con la maglia del Milan col peso del Milan perché lì al Villanar puoi sbagliare due o tre partite non succede niente al Milan se sbagli una partita succede il casino invece l'Inter che parte verso la tasperta asiatica parte senza portieri in questo momento i portieri dell'Inter sono Radu e Di Gennaro in questo momento l'Inter farà questa tournée con Radu e Di Gennaro perché Sommer si è bloccato qualcosa con il Bayern Monaco perché il Bayern Monaco vuole 5 l'Inter non le vuole dare 5 ma il problema è proprio questo io non riesco a capire quando qualunque scuola che vende dice ma il prezzo è quello poi quando va a comprare quando va a comprare non vorrà non vuole pagare i soldi che loro dicono il problema è proprio questo Sommer si blocca se si blocca subito si andrà su come si chiama De Gea portiere svincolato al Manchester United che ha perso il posto oppure è stato rinnovato perché Manchester United ha preso ha preso Nami dall'Inter per 52 milioni più 5 di bonus ma soprattutto in questo momento l'Inter gioca con Radu Stankovic e Di Gennaro sono questi i tre portieri delle due partite che dovrà avvenire contro l'Alsaray e Paris Saint Germain l'Alsaray è la squadra di Cristiano Ronaldo Brozovic MNA perché in questo momento sta attaccando MNA e segnali vanno a prendere i campioni vanno a prendere i campioni secondo me alla fine se non si sblocca davvero tu Sommer l'Inter puntata a De Gea e secondo me De Gea è un ottimo portiere Sommer non mi piace perché se era così buono se lo tenevo il Bayern sì che torna Noia però Noia aveva sempre 36 anni vienendo un grave infortunio poi se in questo momento hanno preso un altro portiere del Bayern sinceramente non lo so il Napoli sta per chiudere il nuovo di Ossimeni quasi 7 milioni più 1 di bonus a facile da raggiungere in totale 8 milioni ma il problema è la clausola perché Ossimeni vorrà la clausa vuole la clausola da 100 milioni invece Napoli la vuole mettere da 130 però il problema è questo il problema è proprio questo come tu quest'anno mi dici mi dici che se non avrebbero 200 milioni non mi vendosi e poi metti la clausola da 100 milioni o 135 c'è qualcosa che non va c'è qualcosa che non va perché se tu dici 200 200 metti la clausola poi sappiamo che o a sparare stanno tutti bravi se arriva davvero un'offerta sui 100 100 135 milioni di Lorenzo Cosimeni lo porti in braccio dove deve andare se l'altro dubbio è proprio la situazione di di Kim che è andato al Bayern Monaco si sta valutando di tante tanti giocatori però ancora un nome preciso non c'è piace Scalvini dell'Atalanta però l'Atalanta ha sparato dai 45 ai 50 milioni e per questo motivo stanno vedendo più all'estero hanno diversi nomi ma ora fare un nome per la soluzione di Kim è azzardato perché secondo me il nome preciso non ce l'ha neanche il Napoli Juve Juve oggi è uscito Real Madrid però sappiamo che Real Madrid ha l'obiettivo di prendere Bappé Bappé quest'anno non lo vuole prendere perché non spende 200 milioni per un giocatore a zero che il prossimo anno può prendere a zero perché va a scadenza secondo me se si mette Real Madrid e Bayern e PSG per trattare 600 milioni possono trattare sicuramente 600 milioni però sarebbe un colpo dopo per Real Madrid che prende Bappé a 100 milioni però sarebbe una sconfitta per PSG però è altrettanto vero che Bappé come abbiamo capito vuole lasciare PSG a zero io questa cosa non l'ho capito come mai vuole lasciare a zero la questione si è capita ma vediamoci chiaro se tu un conto che tu vai a prendere Bappé a pagare il cartellino l'ingaggio non è come lo vuole un conto che va a prendere Bappé a zero l'ingaggio io lo può fare come vuole possiamo parlare di 50 70 80 milioni ecco perché io sto dicendo occhio alla casella Bappé perché Bappé può essere quella pedina che può muovere tutto il mercato come abbiamo saputo oggi è uscita che Ancelotti ha chiamato Dusan Vlaucci io questa questione non mi piace a me che tu Ancelotti chiami un giocatore sotto contratto poi non so se ha avuto il permesso la Juve la Juve questo non lo so però tu come ti azzardi a chiamare un giocatore sotto sotto contratto poi tu mi puoi anche dire e però Allegri l'ha fatto con Lukaku ferma però ferma che vi blocco qua Allegri l'ha fatto con Lukaku Lukaku messo sul mercato dal Chelsea e il Chelsea l'ha sempre detto Lukaku è sul mercato Lukaku all'Inter era andato in prestito non c'era una trattativa dove o un contratto dove diceva che Lukaku era dell'Inter il Chelsea l'ha messo in vendita però queste chiamate non mi piace però secondo me con l'idea con l'idea della Real Madrid la trattativa non si fa perché la Real Madrid lo vorrebbe in prestito con obbligo non diritto un presto oneroso con obbligo però così non va alla Juve ma è che siamo diventati Vlauic è diventato l'Arturo di turno tu vorresti Vlauic un anno per farti il campionato della Champions poterlo lo manda alla Juve perché va a prendere ma beh se vuoi Vlauic anche per rispetto del giocatore 80 milioni 90 milioni se no Vlauic non si muove semplice la questione se tu vuoi Vlauic è quella si cifra se vuoi Vlauic è quella cifra soprattutto parlando di Juve la Juve in questa tournée americana deve valutare Pogba deve valutare semplicemente Pogba se Pogba non riesce a fare una partita delle tre contro Barcellona Real Madrid e Milan la Juve deve valutare seriamente la cessione di Pogba o rescindere il contatto addirittura la peggiore quella che rescinde il contatto oppure chiedere a Pogba e lo sta chiedendo tuttora di ridursi l'ingaggio però anche è vero che un Pogba che prende 7 più 3 milioni e l'ingaggio più alto non si è ridotto l'ingaggio lo scorso anno che ha fatto 6 partite in totale questa torne è fondamentale per Pogba Pogba si gioca il futuro alla Juve se Pogba in queste partite in queste partite non riesce a fare almeno una partita la Juve deve ragionare seriamente sul destino di Pogba perché Pogba è uno che prende 8 più 2 milioni di euro o 7 più 3 o comunque sui 10 milioni di euro o 9 milioni di euro a stagione o un milioncino più un milioncino in meno in questo momento conta tanto se la Juve se lui non riesce a fare una partita delle tre perché lo scorso anno si è infortunato gravemente e lì c'è stata la pazzia di fare quella terapia conservativa folle che dovrebbe quel dottore che gli ha detto di fare quella cura dovrebbe essere radiato radiato dall'albo dei medici però signori miei se Pogba in questo momento non riesce a fare una delle tre partite non riesce a fare neanche una la Juve ne pensa seriamente o la gestione o la diminuzione dell'ingaggio oppure mi scelte dirlo anche di rescindere il contratto un contratto che poteva può essere resciso o insieme o andranno non lo so comunque una decisione deve essere presa signori miei non so se oggi usciranno altre vizi se ci saranno altre notizie notizie importanti io penso che in questa giornata non ce ne siano perché le squadre le big sono pronte a partire le altre si stanno preparando sarà un weekend calmo prima della prossima settimana perché secondo me il calciomercato comincerà se si muove un giocatore con una cifra alta si muove tanto per il momento quella che ha fatto secondo me il miglior mercato è il Milan ha preso ottimo giocatore Rotucic Pulisic l'altro giocatore olandese ora sta portando Ciacavo come si chiama lui Ciacavo Ingua ma il problema è un altro questi poi sono giocatori che hanno fatto tanto con il Cers per esempio Rotucic e Pulisic però nell'ultimo anno hanno giocato poco i problemi sono proprio questi come sarà il loro rendimento sulla carta e il Milan è quello che si è mosso meglio l'Inter ha cambiato tanto ma ha ringiovinito la squadra il Napoli se tiene Osimene Karaschea è a posto deve solo trovare il sostituto di Kim poi deve risolvere la questione Zelisky e Lozano la Roma deve trovare il suo centravanti perché ne avrà ancora parecchio invece quella che per il momento è ferma totalmente è la Lazio ha perso Milikov G-Savage ha guadagnato 40 milioni per il momento non si muove niente se tu perdi il centrocampista più forte che hai in rosa e forse anche nel campionato italiano qualcuno lo deve dare a prendere signori mei iscrivetevi al canale attivate la campanella che ci vediamo alla prossima ciao 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 Grazie a tutti